Trentesimo turno in Serie D anticipato a domani, giovedì 6 aprile, in vista della sosta per la festività pasquale di domenica prossima. Alditella, il Vasto Girardi attende l'Avezzano in quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza. Dopo il pesante KO rimediato a piedi Montematese, la squadra altomolisana scenderà sul proprio rettangolo verde con il solo obiettivo di conquistare l'intera posta in palio. La conquista dei tre punti permetterebbe Giallo-Blu di allontanarsi dalla zona calda della classifica, con un occhio sempre vigile sulle dirette concorrenti Chieti e Roma-Siti, le quali si affronteranno proprio domani in una sfida dall'importanza unica. Dunque, una classifica molto corta che in virtù di una sconfitta o di una vittoria potrebbe ribaltare in poche ore diverse situazioni al momento ancora non definitive. Come detto più volte anche dalla stessa società molisana, da qui e fino alla fine del campionato, il Vasto Girardi avrà di fronte cinque finali, cinque gare da giocare al massimo evitando di lasciare punti per strada. Dopo la sosta, la compagine di mister Coletti dovrà affrontare in ordine di tempo Vigor Senigallia, San Benedettese, Montegiorgio e Cinzia Albalonga. Anche l'Avezzano dal canto suo giocherà in cerca del riscatto dopo la sconfitta di misura tra le Muramiche nel derby col Pineto. Un cammino, quello dell'Avezzano, abbastanza altalenante. La squadra marsicana dovrà stare bene attenta a non commettere ulteriori passi falsi per non compromettere quanto di buono fatto fino ad oggi e rischiare così di inciampare nelle sabbie mobili dei play-out. Per quanto riguarda la formazione, potrebbe tornare dal primo minuto Petriccione, difesa composta da Solimeno, Gargiulo, Modesti e dal rientrante Ruggeri, assente per squalifica contro il Matese. Al centro del campo Anto Giovanni, Grandi Seffiori, in avanti Calemme, Pier Federici e Macni. Ora più che mai tra le mura del nostro campo abbiamo bisogno soprattutto di voi e del vostro sostegno. Questo è il grido lanciato sui propri canali social dalla truppa altomolisana. Con fischio d'inizio alle 15 al di Tella, Vasto Girardi Avezzano sarà diretta da Cristiana Lara Spata di Bari, coadiuvata dagli assistenti Leonardo Grimaldi di Bari e Roberto Lembo di Valdarno.